La natura è una cosa preziosa che ci aiuta a respirare. Questo è uno dei messaggi che gli alunni delle scuole pescaresi hanno scritto all'interno di cuori di carta utilizzati per realizzare il nastro che questa mattina è stato tagliato per festeggiare la riapertura al pubblico dei comparti 3 e 4 della pineta d'Annunziana, danneggiata dall'incendio del 1 agosto del 2021. La cerimonia coincide con il 159esimo anniversario della nascita di Gabriele D'Annunzio, a cui è intitolata sia la riserva naturale che il festival grazie al quale sono stati raccolti fondi che in parte hanno consentito di effettuare i lavori di sistemazione dell'area verde. Erano presenti pubblici amministratori, personale comunale, insegnanti, alunni degli istituti comprensivi 2 e 6, agenti della guardia zoofila, rappresentanti delle associazioni Sport 21 e Fidas e del comitato di esperti nominati dal sindaco Carlo Masci per la rigenerazione della pineta. Sentiamo il vice sindaco Gianni Santilli e il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri. Interventi che sono stati fatti sono stati soprattutto quelli di mettere in sicurezza la parte che purtroppo il fuoco aveva bruciato. Poi abbiamo dovuto risistemare intorno al laghetto, abbiamo rimesso tutte le staccionate, il palo corda palo si chiama così per delimitare le aree. Quali altri interventi sono previsti? Allora, per adesso ci tenevamo a riaprire questa area, adesso dobbiamo continuare con gli altri interventi sul comparto 3 e dalla prossima settimana cominceranno i lavori già al comparto 5. Come noto noi abbiamo effettuato una raccolta di fondi volontari perché ha voluto seguire il festival Valdanunziano e poi abbiamo anche aggiunto uno stanziamento delle risorse non spese avanzate che credo abbiano contribuito in maniera determinante alla possibilità di questa riapertura dei due comparti danneggiati all'incendio, seguirà l'ulteriore comparto nei prossimi giorni e poi aspetteremo il rimborso assicurativo per creare solidità e difesa a questo importante giocimento ambientale così fragile che noi dobbiamo tutelare.